Buongiorno, mi chiamo Giuseppe Picasso, lei è mia moglie. Buongiorno, io sono Roberta Mezzano, sono architetto. Abbiamo un studio tecnico su Genova, dove ci occupiamo sia di progettazione navale che di progettazione civile. E' un grande progetto, un cantiere che si chiama Life24 Life e altri abiti. Sono seguito giornalmente da telecamera che faranno vedere quello che già attualmente facciamo. Invece a questo ho chiesto a Paola di... Un aiuto. Ciao a tutti, sono Paola Sessa e faccio la fotografa. Faremo vedere, oltre appunto, come ha detto lui, il suo lavoro, anche il mio. Ovvero una giornata tipo lo studio di un backstage, quindi come funziona, con il trucco per buco, modelli e modelli. E poi avere proprio sul set fotografico l'aiuto di una persona come Giuseppe che mi segue un pochettino alla scenografia, che è molto importante anche nella fotografia. Faremo anche serate, eventi, sfilate e seguiteci. Le nostre pagine Facebook, il via Firmata Picasso e il Paola Scott. Questo per poter far conoscere la vostra azienda all'interno del nostro reati del nostro progetto. Ciao, a presto.